La Toscana sarà ufficialmente in zona gialla dal 20 al 23 dicembre compreso e numeri forniti dal comitato tecnico scientifico lo confermalo. L'indice RT che misura il livello del contagio è crollato a 0.68 quando scattò la zona rossa era 1.80. Un allentamento delle misure che durerà però davvero poco durante il quale sarà comunque in vigore l'orario del coprifuoco. Dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio dovrebbe tornare infatti la zona rossa in tutta Italia. La Toscana avrà dunque una finestra gialla di tre giorni fino appunto a giovedì 24. La decisione di blindare gli italiani nei giorni fra Natale e Capodanno per l'emergenza Covid metterà a K.O. una buona fetta delle attività in primis ristoranti e strutture dell'accoglienza. A lanciare l'allarme per gli agriturismi è stato oggi col diretti Toscana in occasione dell'assemblea dell'Associazione Agrituristica Terra Nostra sugli effetti delle nuove disposizioni nazionali anti-Covid. Si tratta di un preoccupante e duro colpo per gli agriturismi toscani che fa salire ad oltre 200 milioni di euro le perdite subite nel 2020 a causa della pandemia.